In una stanza del maestoso palazzo della promessa, l'aria è densa di tensione e il tempo sembra essersi fermato. Ogni sguardo è fisso su curro, disteso su un tavolo improvvisato, mentre il suo respiro affannoso si solleva a fatica. La sala, che un tempo ospitava ricevimenti, è ora trasformata in un'operazione di emergenza. Le luci fredde illuminano i volti tesi del dottor Abele e dei suoi assistenti, consapevoli che ogni secondo conta. Il bisturi di Abele è sospeso nell'aria, e la sua mano, solitamente ferma, ora trema. La vita di curro è appesa a un filo. Un filo così sottile che una sola mossa sbagliata potrebbe spezzarlo per sempre. Prima di continuare, se vorresti ricevere nuovi video in anteprima della promessa, scrivi sì nei commenti. Ricominciamo. Ogni respiro di curro è una battaglia, una lotta per rimanere ancorato a questa vita. Il suo volto è pallido, quasi privo di vita. Abele sa che il tempo è contro di lui, ma non può permettersi di fallire. Ogni istante trascorso in quella stanza lo avvicina a una scelta irreversibile. Ma cosa farà? Riuscirà a salvare curro? O il peso della responsabilità sarà troppo da sopportare? La tensione è palpabile, come se anche le pareti di quel palazzo, intrise di segreti, osservassero con trepidazione l'esito. Il bisturi brilla sotto la luce, riflettendo l'angoscia nel volto di Abele. Con un respiro profondo, abbassa lentamente la mano, pronto a iniziare l'incisione. Ma proprio quando il bisturi si avvicina alla pelle di curro, la porta della stanza si apre con un cigolio improvviso. Teresa entra di scatto, il suo volto segnato dalla tensione e dalla paura. Fermatevi, esclama con la voce carica di urgenza. Abel si blocca, il bisturi ancora sospeso a pochi millimetri dal corpo di curro. Il silenzio nella stanza è opprimente, interrotto solo dal respiro affannoso del giovane. Non è curro il problema ora, dice Teresa, con la voce incrinata dall'emozione. Feliciano sta morendo. Se non intervenite subito, sarà troppo tardi. Le sue parole colpiscono Abel come una scarica elettrica. Feliciano? Abel si sente paralizzato. Curro è in bilico tra la vita e la morte, ma Feliciano sembra già sull'orlo del baratro. Cosa fare? Salvare Curro o correre da Feliciano, sapendo che ogni secondo potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte? La disperazione di Teresa è evidente, ma Abel sa che deve restare concentrato. Il suo dovere è salvare Curro. Tuttavia, le parole di Teresa risuonano nella sua mente e la decisione diventa sempre più insostenibile. Ogni attimo perso sembra un'eternità. Il palazzo della promessa diventa un labirinto di scelte difficili e dolorose. Abel deve agire, ma a quale costo? Nel frattempo, Romulo prosegue ostinato nelle sue indagini, scavando nel passato oscuro del palazzo. Le voci su un incidente di caccia mai del tutto chiarito continuano a circolare. Ogni dettaglio sembra portare a Lorenzo, il cui nome è legato a ogni ombra e sussurro nei corridoi. Ma cosa nasconde davvero? Romulo non può ignorare i segreti che aleggiano sulla promessa. Qualcosa quel giorno è andato terribilmente storto, e ora ogni pista sembra portarlo sempre più vicino alla verità. Mentre Romulo si avvicina alla verità, nella cucina del palazzo Vera si muove con cautela, sempre consapevole degli sguardi indagatori della duchessa. C'è un segreto che la tormenta, un passato che potrebbe essere rivelato da un semplice sguardo sbagliato. La sua mente è in costante allerta, temendo che la duchessa possa riconoscerla e far crollare tutte le sue menzogne. Vera sa che vive in bilico, sempre sull'orlo del disastro. Anche Candela percepisce il peso dei segreti che infestano la promessa. Ogni suo movimento è calcolato, ogni sguardo sospettoso. Quando incrocia lo sguardo di Simona, il tempo sembra fermarsi per un istante. Cosa nasconde Candela? Perché sembra sempre un passo avanti agli altri, come se conoscesse verità che nessun altro osa svelare? Il palazzo è un luogo di intrighi, e ogni personaggio ha un ruolo da giocare in questo teatro di segreti e tradimenti. La tensione cresce ulteriormente quando Cruz e Lorenzo, nascosti nell'ombra, si scambiano uno sguardo complice. Le loro labbra si piegano in sorrisi sottili, quasi crudeli. Per loro, la sorte di Curro non è una tragedia, ma una soluzione. Se Curro non si sveglia, sarà un peso in meno da gestire. Il loro sguardo è freddo, calcolatore, mentre il destino del giovane è appeso a un filo sottile. E proprio quando tutto sembra perduto, qualcosa di inaspettato accade. Ma cosa sarà? La vita di Curro è davvero nelle mani di Abel? O c'è qualcun altro nascosto tra le ombre della promessa, che trama nell'oscurità? Riuscirà Abel a prendere la decisione giusta, o sarà troppo tardi? E cosa succederà a Feliciano? Le risposte sono tutte lì, pronte a essere svelate, ma il tempo stringe, e il palazzo nasconde ancora molti segreti. Vuoi scoprire cosa accadrà? Non perderti le prossime anticipazioni della promessa. Lascia un commento qui sotto, e facci sapere chi pensi che riuscirà a salvarsi. E non dimenticare di iscriverti al canale, per non perdere nemmeno un colpo di scena. Le vite di Curro, Feliciano e di molti altri sono appese a un filo, e solo seguendo il nostro canale potrai scoprire come tutto questo finirà. Ma ricordati, non tutto è come sembra. Cosa succederà davvero in quella sala improvvisata? E quali altre verità nasconde il palazzo della promessa?